Il nostro citazionario di citazioni e aforismi per tutte le occasioni, per ogni momento, anche un citazionario speciale, il numero 13, speciale a Bemus Papam, sì, perché il citazionario numero 13 presenta tutte le frasi, tutti i passaggi più interessanti che hanno detto tutti i papi dall'inizio del Novecento sino a Papa Francesco compreso. Quindi lo speciale a Bemus Papam del citazionario vi consentirà di leggere le parole di Francesco Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Giovanni Paolo I, Paolo VI, Giovanni XXIII, Pio XII, Pio XI, Benedetto XV, Pio X, Leone XIII e tutto questo sempre al solito a 0,99 centesimi di euro la copia.